Una delle affermazioni che fa Papa Francesco è quella di dire che Dio non è cattolico. Un'affermazione che lascia interdetti molti noi cattolici, ma che lei però può aiutarci meglio a comprendere. E allora le chiedo, chi è per lei Dio? In realtà è la prima volta che io ho sentito questa citazione di Papa Francesco e gli sono molto grato. Il cattolicesimo ha magari 2.000 anni e l'universo ha più di 13 miliardi di anni. Quindi è chiaro che Dio è molto più grande del cattolicesimo o del cristianesimo. Dio è presente in tutti gli esseri dell'universo. Questo è il significato di Logos, parola di Dio, e anche di sapienza presente in ogni essere nell'universo. E il Cristo Cosmico è la luce che c'è in ogni essere nell'universo. E' chiaro che dobbiamo allargare la nostra comprensione della divinità. La divinità è presente nella creatività, nella bellezza, nello stupore, nella gioia, nella lotta per la giustizia e per la compassione, e anche nell'oscurità, nella sofferenza e nel dell'universo. Sono quindi davvero contento che Papa Francesco dia il suo contributo a questo allargamento della consapevolezza umana. Albert Einstein ha detto che il futuro dell'umanità dipende dall'esistenza di una religione cosmica che sia fondata sulla coscienza. E, ovviamente, non faceva altro che rispondere all'olocausto della Seconda Guerra Mondiale. in quanto ebreo, egli sentiva che tutte le religioni di ogni tipo sono fallite. che molti cattolici e protestanti o cristiani in generale non avevano preso posizione a favore della giustizia, ma andavano comunque in chiesa ogni domenica mentre stava accadendo l'olocausto. Quindi penso che Papa Francesco sia dando un contributo a questo allargamento dell'anima umana, in modo che noi possiamo diventare più consapevoli in senso cosmico della vastità della nostra stessa esistenza e certamente della vastità del creatore o creatrice stessa. Lei ha scritto un libro molto importante, in principio era La Gioia, dove ribalta completamente l'idea di senso di colpa, che invece perseguita noi cristiani da duemila anni. Perché, secondo lei, la Chiesa ha nascosto ai credenti quello che è il messaggio centrale di Gesù, ovvero la gioia e la misericordia? Prima di tutto voglio ringraziarti per aver detto che ho preso un errore e l'ho rivoltato. Non penso di essere l'unico. Ci sono stati molti altri teologi e mistici durante i secoli, che a modo loro hanno parlato della benedizione originaria, invece del peccato originale. Penso che il supporto per l'ideologia del peccato originale avvenne quando il cristianesimo ereditò l'impero nel quarto secolo. Dopo tutto, Sant'Agostino, che inventò questo linguaggio a proposito del peccato originale che visse nel quarto secolo. E se vuoi controllare un impero, il peccato originale è un'idea molto utile. La costruzione stessa dell'impero è in sé molto patriarcale. E penso che la consapevolezza femminile non inizi dal peccato originale, come quella patriarcale, ma dalla gioia. Quindi penso che ci siano ragioni politiche importanti che spiegano perché il peccato originale abbia trionfato in Occidente. E penso che oggi il capitalismo consumista sia una versione secolarizzata del peccato originale. Perché i pubblicitari non fanno altro che dirci la stessa cosa che nel passato ci hanno detto i preti. cioè che noi non abbiamo dentro di noi ciò che è bello e necessario. Dobbiamo trovare la redenzione dall'esterno nel mercato del consumismo. Quindi penso che la rottura con l'ideologia del peccato originale metta in crisi e scuota molte gabbie. Non solo quelle teologiche e religiose, ma anche quelle economiche e politiche. Per questo è una lotta riuscire a esprimere questa buona novella. Le cattive notizie sono sempre molto più facili da vendere rispetto a quelle buone. specialmente quando i media sono nelle mani degli industriali capitalisti e il cui scopo non è altro che vendere più cose invece di svelare più verità.